...interesse... ...che? ...che? ...che metti qua? ...che c'è la vita in casa e il messaggio... ...la signora... ...che questo sei... ...pigliata... ...ca con la prima procedura, io ci prendo... ...che c'è... ...c'è... ...che... ...che... ...che c'è... ...che c'è... …che c'è... ...che c'è... C'è un po' di cestà. La tua misericordia canterò La tua misericordia canterò La tua misericordia canterò La tua misericordia canterò